Dunque è un momento particolare per l'agricoltura in quanto vi è un'agricoltura biologica che ha già risolto i suoi problemi e che fa un'agricoltura che di fatto non ha residui se non in casi molto particolari. Rimane però tutta l'agricoltura convenzionale dove la riduzione dei prodotti chimici registrati negli ultimi dieci anni ha dei grossissimi problemi in quanto non riesce più a coltivare. Questo tipo di agricoltura deve tornare ai principi agronomici delle buone pratiche, l'utilizzo dei sovesci, l'utilizzo di molecole naturali, di molecole anche bioattive nella difesa delle colture prendendo delle informazioni dal biologico senza fare però un'agricoltura integralmente biologica. Che cosa sono i sovesci? I sovesci sono coltivazioni di piante con l'unico scopo di interrarle al momento della piena fioritura. I sovesci sono una tecnica che nel passato era l'unica o la principale tecnica per la fertilizzazione dei suoli. Oggi con le tecnologie abbiamo dei nuovi sovesci che combinano l'aspetto nutrizionale anche all'aspetto di difesa delle colture sempre parlando di prodotti integralmente 100% vegetali.